E' sul Corriere della Sera di ieri grande esultanza in un articolo quasi di una pagina perché alla scuola dei librai Mauri è stata presentata una relazione secondo la quale l'anno scorso forse si è frenata la discesa verso l'inferno delle vendite dei libri tradizionali. Sì, ci sono stati dei palpiti di crescita determinati, come ho avuto già occasione di dire, soprattutto della vendita di libri per ragazzi, quindi qualche speranza per le librerie indipendenti, qualche speranza per l'editoria libraria tradizionale e questo lo si dice con la gioia di chi odia, detesta, contesta questo rompiscatole che è il libro elettronico. Il libro elettronico il quale non dovrebbe essere assolutamente in concorrenza con il libro tradizionale, anzi, se chi pubblica un libro tradizionale pensa che fare degli ebook voglia dire semplicemente fare la fotocopia digitale di quello che ha stampato e distribuisce nelle librerie, proprio non ha capito ancora assolutamente nulla di quella che è l'editoria digitale. Ma lasciamo questa illusione ai poveri colleghi, i quali sono aggrappati al libro di carta e non hanno ancora capito che il mondo si è trasformato intorno a loro, che devono ragionare articolatamente in altre maniere, che non ci si salva la coscienza semplicemente facendo la fotocopia digitale di un libro tradizionale, ma operando anche nel digitale e pensando a stampare in cartaceo quello che veramente varrebbe la pena di essere stampato in cartaceo, tutto il resto dovrebbe essere reimmaginato e reinventato in digitale e dico reinventato, non fotocopiato, reinventato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.